ciao a tutti ragazzi al vostro diabotex allora oggi sono qui per un unboxing dove sono anche un po incazzato e vi dico perché un po incazzato sono incazzatissimo allora vi dico anche perché subito allora sto parlando di forza horizon 3 si ragazzi ok il gioco usciva oggi 27 settembre però cosa è successo io poi quando devo parlare ragazzi devo parlare perché poi se me le fanno girare mi girano e lo dico allora io ho il mio account condiviso su xbox one con un mio amico con un mio carissimo amico ed è successo questo quindi abbiamo detto il mio amico ha prenotato forza horizon 3 versione ultimate edition con tutto il season pass e tutto e io ho preso la versione normale in modo che comunque abbiamo i contenuti aggiuntivi tutti e due ok fin qui tutto normale però la ultimate edition di forza horizon 3 usciva il 23 settembre ragazzi e oggi è 27 settembre succede questo il mio amico prenota forza horizon 3 ultimate edition il 23 settembre valmedia world qui della nostra città e forza horizon 3 ultimate edition la sua copia non c'è gli dicono tante di quelle cose che neanche sto qui a specificare perché secondo me qui c'è di mezzo l'incompetenza non 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 sono sicuro però se ragazzi ed ecco allora io ho prenoto un gioco e il giorno dell'uscita non lo trovo ma non è questo il problema un giorno di ritardo posso anche capirlo ci può stare ragazzi ad oggi che è il 27 settembre il mio amico mi ha fatto la cortesia di andare a ritirare la mia copia di forza horizon 3 ma la sua ultimate edition dal 23 23 24 25 26 e 27 sono cinque giorni in più ancora c'è la ultimate edition e non si sa neanche se avrà per questa settimana ora voi mi dite ma cosa c'entra adesso il tuo forza horizon 3 con il tuo amico c'entra ragazzi perché il mio amico mi avrebbe fatto la cortesia di darlo a me di darmi il 23 forza horizon 3 in modo che io vi portavo l'unboxing dell'ultimate edition e qualche gameplay in anteprima adesso vi dico la verità ragazzi non farò la serie di questo perché uno mi frullano i coglioni in una maniera che voi non potete neanche immaginare magari vi porterò qualche gameplay così ogni tanto di forza horizon come acquisto una macchina nuova faccio qualche gara però fare una serie su questo titolo far tutta la carriera ragazzi lasciate perdere perché un gioco enorme e bestiale quindi non se ne parla detto questo il 23 avrei fatto qualche gameplay con l'unboxing ma volevo chiarire dove è stato il problema perché non è arrivato l'unboxing il 23 perché le cose ragazzi in male o in bene vanno chiarite sempre ora possiamo passare all'unboxing di forza horizon 3 oggi che 27 il mio amico cinque giorni ancora la sua copia di forza horizon 3 ultimate edition è certo ragazzi funziona anche così funziona anche così e va bene allora vai apriamo il gioco quindi giustamente il manuale di istruzioni ormai è diventato più costoso di un rotolo di carta igienica e per quello che non ce lo mettono più che ci mancherebbe allora togliamo tutto lì togliamo tutto lì ragazzi questa cover di forza horizon 3 versione normale perché ripeto al media world della nostra città l'ultimate edition non è arrivato non è arrivato io ho prenoto un titolo e cinque giorni dopo ancora arriva ok giusto perché mi piace puntualizzare io sono un tipo che puntualizza sia in male che in bene non mi interessa ragazzi è così che funziona è così che funziona allora poi passiamo anche a farvi vedere il blu ray di gioco ed eccolo qui il blu ray di forza horizon 3 ragazzi allora io qualche gameplay ve lo porterò come acquisterò una macchina nuova magari prendo una ferrari una lamborghini quello che sia la preparo vi farò vedere qualche gara però non vi aspettate che vi farò tutto il campo cioè tutta la carriera ragazzi perché vi spiego anche la motivazione sono impegnato su pes questa settimana in molti di voi mi chiedono diablo quant'è che parti su pes questa settimana riusciremo a partire su pes ok ragazzi sto facendo la mia squadra voi non vi preoccupate arriverà il primo ball opening questa settimana cioè il secondo ball opening perché il primo fatto del the one e comunque va bene ho rassicurato ho fatto una breve parentesi qui sull'unboxing di forza horizon ho messo in mezzo pesce perché molti mi chiedete non vi preoccupate che sto mettendo meno video sul canale perché sto facendo anche dei lavori in casa è tutto sotto controllo insomma ragazzi il canale va avanti non vi preoccupate quindi questo è il blu ray di forza horizon 3 ragazzi è qualche gameplay ve lo prometto ma tutta la carriera non se ne parla quindi l'unboxing di forza horizon 3 compagnia del vostro diablo tex si conclude qui ci sentiremo con i prossimi unboxing e gameplay ciao a tutti al vostro diablo tex e alla prossima ciao